Tra i protagonisti della partita con Monza, anche Sighino Olfi, è la terza volta che entri per la battuta ed è la terza volta che fai Ace. Terza volta che mi va bene, diciamo che mi è andata molto bene, sono contentissimo. È stata un'emozione grandissima entrare col pubblico così caldo, in un momento così critico e è andata bene. Una bella partita con due set vinti in rimonta, tra le altre cose il terzo annullando quattro palesette agli avversari. È stata una gran bella partita, molto sofferta, anche dalla panchina è stata dura. L'abbiamo tifato, anche noi ce l'abbiamo messa tutta e ci siamo portati a casa tre punti molto importanti. La vostra condizione in vista della partita prima di Latina e poi della Coppa Italia? Stiamo lavorando, lavoriamo sodo, continuiamo a lavorare e questo è quello che importa. C'è qualche acciacchino fisico ma sono i rischi del mestiere. Continuiamo su questa strada e speriamo di portarci a casa la Coppa. La partita che arriva. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.